Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo felici del risultato, adesso non ci resta che proiettarci verso la sfida di Roma che sarà altrettanto importante. Quindi significato nascosto, non ci vuoi svelare quel volante, ok. Battaglia, perché oggi è stata veramente una gara combattuta, lì nel mezzo, poi ti sei inventato questo gol al volo meraviglioso. La squadra che non ha mollato un centimetro, come dicevamo prima, anche con Prade, che vi ha elogiato perché siete un grande gruppo, è così? Sì, siamo un grande gruppo, lo siamo dall'inizio, purtroppo i risultati non sono stati dalla nostra parte in alcune circostanze, in altre abbiamo fatto meno bene, quindi non sono arrivati. Ma adesso ci teniamo la prestazione perché comunque siamo andati in svantaggio, siamo rientrati in partita, siamo andati in vantaggio, abbiamo giocato mezz'ora in dieci e abbiamo fatto una grande prestazione. Teniamoci la prestazione e la vittoria, però come ho detto adesso c'è da pensare alla prossima battaglia che è quella di Roma. Tu gol brutti questa stagione non ne vuoi proprio fare, solo gol meravigliosi? No, spero di farne anche qualcuno brutto che pesi ancora di più, questo è l'obiettivo per il quale lavoro. Senti invece Rolando, una curiosità te la chiedo su Tudor, perché comunque hai segnato due gol sotto la sua gestione, è un caso? O magari il mister che ti chiede più spesso di andare più vicino alla porta, concludere più volte verso lo specchio avversario? No, il mister mi ha dato fiducia sicuramente a propormi tanto sia in fase di possesso che in fase offensiva per quello che può fare un play oppure una mezzala quando gioco da mezzala e quindi sì, è anche merito suo. Una candidatura che ti aveva spinto anche Adriano Federa al Tonight più e più volte, quindi speriamo tu ti possa ripetere anche a Roma. Adesso c'è un'altra bella doppia sfida sia con Roma che con Lazio, andate lì con immagino maggior fiducia in spogliatoio, c'era un bel clima fino a poco fa. Sì, l'unica cosa a cui penso è che non dobbiamo collarci sugli allori perché la lotta per la salvezza è ancora lunga, le altre squadre vanno forti e noi dobbiamo andare più forte, quindi resettiamo, godiamoci la vittoria per oggi ma da domani iniziamo a pensare alla prossima partita.